Ciao creatura Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR credo che la mia seggio la scricchioli un po' scricchioli, scricchioli, scricchioli vabbè non importa, non facciamoci caso allora creatura come avrei letto dal titolo Storytime questa sera non ne ho mai fatti ho voglia di farli allora facciamoli credo questo sia anche un video extra che non ti aspetti allora storytime perché non ne ho mai fatti una messa idea ce l'ho però diciamo che per un periodo nell'altro canale quello Ecate Splendente il canale non ASMR mi ero aperto molto poi sono rimasta scottata e quindi poi basta ho interrotto di dire che è fuori miei proprio pienamente però adesso mi è tornata la voglia perché io non ce la faccio io devo cioè condividere me stessa quindi vabbè come se non la fosse ok ma penso che a te faccia piacere allora che è successo in questo periodo mi arrivano un sacco un sacco un sacco un sacco un sacco di mail di collaborazioni però e tu direi beh buon per te peccato che il 98% sia scam cioè gente che vuole truffarti in qualche modo e farti cliccare cose scaricare cose per farti come si può dire senza volgarità fregarti fregarti e entrarti nel computer o fregarti dati cose del genere e quindi io che ormai ho capito come funziona mi diverto anche a leggere queste mail perché le prime volte erano molto scamabili cioè con un'email che non c'entrava nulla scritta e così con aziende che non esistono cose del genere perché andavo a cercare l'azienda per capire se esisteva e anche che prodotti offrivano cose del genere giustamente se devo collaborare con te devo capire che prodotto offri e chi sei eccetera eccetera perché io quando faccio le collaborazioni giustamente provo davvero i prodotti cioè non è che dico perché purtroppo sul web c'è chi viene pagato per dire ah bellissimo questo prodotto di cui non ho idea neanche che cosa faccia ma bellissimo funziona tantissimo poi i follower lo comprano buttano i soldi perché magari è una roba che sono quelli generalizzati ma magari è una cinesiata che non si aziende neanche ecco io non sono di quel tipo io voglio provare davvero le cose e dire come stanno perché non vorrei che le altre persone che si fidano di me spendessero soldi in cose che non funzionano perché non è giusto anche quello è truffa secondo me però vabbè però ormai il web funziona così che magari l'azienda scancia i money e la tizia in questione o il tipo in questione che hanno tanti follower dicono bellissimo io lo so sempre la prima volta che lo vede non sapeva neanche l'azienda cosa produce cioè cosa del genere no io invece mi informo sempre vado a cercare su google informazioni o chiedo direttamente all'azienda per avere più informazioni possibili e però appunto andando a cercare tante volte non esiste proprio l'azienda di cui parlano e questo mi fa dire ok scam e poi per altri tanti motivi inizialmente appunto erano molto blandi già si capiva subito che volevano truffarti invece adesso si sono schillati e sono diventati più abili e l'ultima volta me ne è arrivato uno della levis con tanto di marchio sembrava marchio registrato con tanto di mail giusta fatta bene e sotto anche insomma sembrava molto articolato fatto bene dove spiegava bene la collaborazione e tutto alcuni indizi insomma mi facevano capire che era fasullo e quindi sono andata ho scritto un'email alla levis dicendo chiedendo mandando il nominativo della persona che si era spacciata per una che lavora insomma per la levis e per le collaborazioni questo e quell'altro e la levis appunto mi ha confermato che era scam di non cliccare di cancellare tutto e cioè di non cliccare nei link che avevano mandato eccetera eccetera cosa che comunque non avevo fatto non ho scaricato nulla ho solo aperto se apre solo l'email non succede nulla e comunque mi ha fatto cioè ho detto cavolo sono diventati sempre più bravi la centesima email così insomma vedo che ho tre email mi sono arrivate in distanza di pochi giorni o anche poche ore da la stessa persona una certa Anna non leggo la prima in ordine cronologico ma leggo la prima che ho una penna in mano che mi risulta nella lista quindi l'ultima email ricevuta ed era tipo vorremmo collaborare con te anche se il nostro prodotto non c'entra nulla con il tuo canale vorremmo comunque che tu provassi i nostri prodotti e quarto cerco informazioni appunto su questo questa azienda questo sito esiste effettivamente però anche la levis esiste quindi ho detto vabbè e cosa fanno questi vendono skateboard e io scelto ho scelto il primo che ho visto nero nero con le ruote che si illuminano con i led pensando tanto non non mi arriverà mai perché è uno scam cioè sono tutte cavolate non mi arriverà mai non mi arriverà mai non mi arriverà mai non era scam è un vero vero sito che vende skateboard mi è arrivato davvero che è un mini skateboard con le rotelle che vediamo se riesco non so se si vede no forse non c'è c'è troppa luce comunque mi è arrivato davvero poi ho riletto anche le altre mail e perché ho proprio convinto al 100% che cioè non aveva senso per me che questa azienda questo sito questo negozio di skateboard mi contattasse perché chi sono io se non la dea dell'smr ok ma cosa c'entro con gli skateboard e quindi ho pensato appunto che fosse tutto finto no e quindi non sono neanche stata lì magari a guardare descrizione del prodotto eccetera eccetera ho preso quello lì nero con i led tanto non mi arriverà mai certo sicuramente ecate e dopo però rileggendo appunto dicevo rileggendo le altre mail ho visto che in realtà era una persona con cui avevo collaborato tempo prima che però aveva altri prodotti adesso aveva cambiato totalmente genere e si era trovata molto bene con me e quindi aveva piacere di avere una recensione anche di uno skateboard nonostante appunto diceva proprio nell'email non c'entrava nulla con il il mio canale che effettivamente è così però se non fosse stato per Anna che ringrazio molto di avermi contattata e di aver insistito perché magari se non mandava tutte queste email dove spiegava appunto cose diverse in ogni email magari l'avrei gestinata per colpa appunto di spam e altre email che ahimè fregano le persone i dati e insomma ho detto vabbè ormai ormai siamo qua io ci tengo a provare davvero un prodotto anche non è giusto che ti mandano una cosa e poi mi sembrava voluto dire ah si questi skater bellissimi buonissimi senza averlo provato non è giusto e siccome mia sorella è savebarbie su instagram se volete seguirla lei sa andare sullo skateboard non sa fare i trick vabbè però almeno sa andarci e sa anche andare ad essere sinistra per dire che per me è già tantissimo e ho detto oh insegni proviamolo proviamolo e quindi adesso in questo story time ti racconterò anche la mia prima volta la mia esperienza sullo skateboard spero che ti interessi ma insomma ho imparato un sacco di cose in questi giorni sono andata a casa di mia sorella sono rimasta lì due giorni e per avere del tempo per imparare insomma con lei o comunque qualcuno che mi dice no guarda già ho sbagliato subito perché prima volta ho messo il piede sbagliato sopra vabbè scampato comunque lo skateboard questo qui è un mini skateboard io non sapevo la differenza tra mini skateboard skateboard normale completo longboard io proprio zero adesso lo so allora i mini skateboard sono questi sul sito dice che sono per i beginners cioè quelli che vogliono iniziare ma provando io e mia sorella posso dire che quelli mini sono per bambini a meno che tu non abbia dei piedi molto piccoli o sia un nano come dice mia sorella per i bambini o per i nani perché sono secondo me strutturati e fatti apposta perché ha un varicentro molto basso quindi a parer mio di mia sorella soprattutto di mia sorella perché io non ero esperto non ne sapevo nulla però l'ha potuto provare e iniziando con un mini skateboard parti proprio con il più difficile di tutti se si vuole iniziare a provare più facile sembra assurdo dico per la mia esperienza partire con quelli più grandi in realtà che sono quelli più pesanti si però sono quelli più facili per mantenere l'equilibrio e infatti adesso ho imparato non posso dire che ho imparato e ho imparato con quello quindi con quello più difficile quindi adesso spostatevi devo comprarmene uno grande perché ho provato con quello di mia sorella grande e riesco ad andare non riuscivo con quello cioè riuscivo con questo sono uscita con questo ma con molte difficoltà ma anche mia sorella che è capace ha trovato grandi difficoltà proprio perché è piccolo e mini però io ho scelto a caso perché appunto ti ho spiegato tutta quella facendo se no magari mi mettevo lì e guardavo e magari me ne prendevo uno grande o sapendo magari mi informavo invece niente è andata così però è stato un ottimo modo per sfidare me stessa perché io sono so che magari nei video o come mi vedi vestita o che la musica che ascolto non so sembro una tipa molto lanciata una che non si fa se ne frega robe così per certi aspetti sì perché mi vesto come voglio e anche se ho un po' di ansia sociale un po' di ansia in generale esatto molta ansia non un po' vabbè ma quelle cose quella ce l'ho perché ho dei traumi di cui non ho mai parlato nei video perché sono cose molto private e quindi non non ci tengo che tutti sappiano perché mi vergogno anche se non è colpa mia però che mi sono successe queste cose però vabbè parliamo di cose belle e appunto mi sono buttata nel senso che mi sono lanciata nel provare nonostante mi sentissi per me impedita imprenatissima mia sorella aveva trovato uno skate park vicino non tantissimo lontano da casa sua e ha detto wow finalmente qualcuno con cui andarci quindi sono andata io con lei però siamo arrivati lì c'era brutto tempo e c'erano tre ragazzi come abbiamo parcheggiato stavamo entrando entrano tre ragazzetti che si siedono che non ci sono neanche le panchine proprio in mezzo alla pista senza skate o senza niente iniziano a far casino e io no io sono timida mi vergogno non sono capace quindi ho detto non voglio cadere lì davanti a loro magari mi fanno anche dei video io non lo so ho già capito magari divento virale su tiktok e non lo so è sfottuta da tutti perché non so andare in uno skate scusatemi se non ho mai usato uno skateboard e quindi non è che tutti sanno fare tutto subito e quindi ero già in paranoia perché mi vergognavo volevo tantissimo provarlo ma allo stesso tempo mi vergognavo tantissimo allora dato che mia sorella è da un anno che non usa uno skateboard si vergognava anche lei perché ha detto devo riprendere il piede si dice la mano ma diciamo il piede perché usi i piedi cosa fa si vergogna anche lei giustamente mia sorella fa eh no che palle sti ragazzetti vedo era domenica pomeriggio allora fa mia sorella vabbè cambiamo posto ah se no io andavo in una pista ciclabile perché prima di conoscere prima di sapere che c'era questo skate park andavo in questa pista ciclabile allora ho detto vabbè andiamo lì siamo andati lì che più o meno il pavimento la pavimentazione era la stessa perché quello skate park è distrutto siamo andati in questa pista ciclabile mia sorella ha ripreso piede con il suo e io mi ritrovo lì a guardare questa tavola skateboard e dire e mo adesso cosa faccio allora intanto ho sbagliato subito il piede perché ho messo il destro sopra e mi veniva spontaneo spingere col sinistro e invece mia sorella fa no mi dispiace devi mettere il sinistro sopra e spingere col destro e io già lì mi sentivo super impedita spingevo sì ma non mi sembrava che mi partisse la tavola ogni secondo cioè non riuscivo poi non riuscivo a fare quella cosa di staccare il piede da terra quello che spinge il destro e metterla dietro perché avevo paura di cadere non mi sentivo sicura mi sentivo super in imbarazzo mi sentivo super tipo impedita imbranata e mi è stato a vergognarmi mille paranoie ogni macchina che passava mi fermavo e aspettavo che passasse perché mi vergognavo insomma pippe mentali che non vorrei avere ma purtroppo nel mentre che sembra quasi che inizio a capire no che cosa devo fare della mia vita inizia a piovere allora dato che avevo paura che il giorno dopo andando allo skate park ci sarebbe stato tipo non lo so o chiuso o qualcuno e quindi non saremmo riuscite a fare neanche un video una foto niente che provarlo soprattutto e e ho chiesto a mia sorella di farmi delle foto le ho fatto delle foto sotto la pioggia molto carine che metterò sicuramente su instagram però non ero soddisfatta perché non ero riuscita a fare niente quindi mi sentivo molto frustrata molto fallita eccetera eccetera però dentro di me mi ripetevo nessuno al primo colpo sa già far tutto o meglio non tutti insomma hai provato solo due secondi cosa pretendi pretendi di essere già bravissima no non funziona così devi fare esercizi esercizi e buttarti e mia sorella l'ha provato e si è trovata molto male non perché lo skateboard vada bene ma perché appunto è piccolo è mini ma io non avevo perché sappiamo perché ho scelto quello insomma però le luci era bello perché era sera e pioveva quindi era nuvoloso ho fatto un piccolo video magari lo metto qua con il telefono l'ho fatto e dove appunto si vedono le luci led che si illuminano bellissimo quindi lo skateboard il suo lavoro lo fa ero io che ero in grado di farlo andare e insomma torno a casa tutta sconfitta molto abbattuta per questa cosa tutta la notte dormo però questi pensieri di devo farcela devo buttarmi basta paranoia eccetera eccetera perché ci tenevo tanto e perché mi piacerebbe tantissimo mi piaceva moltissimo l'idea di imparare qualcosa anche su soddisfazioni personali anche perché mi sento sempre una rincoglionita si può dire nel video perché vedo gli altri fare mille cose io invece per la paura per le paranoie l'ansia tutto non ci provo neanche proprio mi arrendo subito e questa cosa di me non mi piace e voglio cambiarla mi blocco insomma che tante volte è un bene perché ti magari evita situazioni spiacevoli come il carcere ma altre volte no quando mi arrabbio quelle persone però altre volte ti impedisce di fare tutto o tutte le cose che vuoi fare insomma che non hai coraggio di fare quindi cos'è successo il giorno il giorno dopo tra l'altro è anche proprio questo outfit che io magari te lo raccontrò in un altro video ma forse ce lo sai adesso ho l'ossessione per le camicie e quindi ho detto questa camicia mi sembra molto skitter molto crunch così non lo so parole a caso infatti mia sorella ha detto non è giusto tu hai l'outfit molto più assegato del mio tu che non non sei andarci e io che ci so andare ho un outfit di M ma io ho stile vabbè sto giocando con tutte le cose che ho sul mio tavolo non so perché sul mio tavolo ho questa dentiera da vampiro orribile tra l'altro perché super 3 però ASMR vabbè insomma e quindi perché sto avvicinando ottobre comunque appunto non mi devo perdere in dentiere di Halloween il giorno dopo domenica lunedì mattina mia sorella ha il giorno libero quindi voleva approfittarne per andare allo skate park perché in teoria adesso i ragazzini dovrebbero essere a scuola quindi il posto libero per gli adulti che vogliono fare cose senza ragazzini intorno ai piedi ok e non ho niente contro i ragazzini però visto ciò che era successo il giorno prima capisci perché dico questo scusa se magari non parlo lentamente come un giusto video ASMR ma sono molto emozionata nel raccontarti queste cose e quindi ho la mia parlantina normale quella di proprio io e te creatura amici ti racconto le cose proprio così i miei amici sono abituati io ho questa parlantina veloce perché non sono neanche un po' ansiosa e vabbè però di persona nonostante questo rilasso non so come ma vabbè e insomma c'è il sole non piove più si sta bene arriviamo uno dei cancelli è chiuso quindi il cancello dove eravamo entrati insomma mi è venuto un flash non c'erano non c'erano non c'erano solo i ragazzini il giorno prima c'erano anche dei ragazzi che sembravano lì per lo schiaffari no tipo hanno usato i fiori e cose così e anche per quello siamo andate via il cancello e sentiamo e sentiamo delle voci eh no no non erano le voci nella mia testa provenivano proprio dallo skatepark skatepark sì poi guardiamo meglio e c'è un ragazzo che sta vabbè di colore cioè non cambia niente e con la musica non erano voci ma era musica che sta provando dei passi di danza non so se stava allenando tra l'altro anche bravo allora io e mia sorella ci guardiamo cosa facciamo mia sorella fa ma sì che se ne frega lui si fa i suoi balletti noi proviamo ci mettiamo dall'altra parte e dalla parte opposta c'era tipo un palchetto dove probabilmente fanno anche dei concerti non lo so alla fine mia sorella ha insistito dicendo dai lui sta dalla sua parte noi siamo dalla nostra e se non si vergogna lui che sta ballando ma i ballerini non è che si vergognano c'è di solito vabbè non importa però me l'ha messa così su questo piano se non si vergogna lui a ballare davanti a noi perché noi dovremmo vergognarci io ora tipo è pronto io sono incapace a tutti di dare lo skateboard però ho detto dentro di me vabbè voglio buttarmi provare lo stesso così che dovremmo fare sempre e non arrenderci anche se ci sentiamo super imbranate stupide stupidi creatura dovremmo sempre lanciarci e provare 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 io non riuscivo neanche a stare in equilibrio su questo skateboard e mi sentivo così stupida e mia sorella inizia a farsi gli affari suoi girando sempre tipo o nelle piste ciclabili o nei parcheggi tipo quello dell'Ikea mi ha detto che è super super top la sua prima volta anche lì insomma cosa ho provato a fare visto che c'era ho detto vabbè qua devo provare io devo capire io come stare in equilibrio nessuno cioè lei me l'ha mi ha spiegato più o meno cosa dovevo fare però inutile mi serviva la pratica quindi dovevo provare io buttati e si cadi pazienza ho detto non volevo farmi assolutamente male perché il 30 devo andare a Roma quindi non non è che era molto contenta quindi avevo anche paura per quello mi ha detto non cadi l'unica cosa che può succedere è che metti giù i piedi basta cioè allora io non mi sentivo sicuro non riuscivo a stare in equilibrio eccetera eccetera cosa ho fatto mi sono messa vicino a questo palco di ferro e di ferro a legno mi sono aggrappata e mi sono messa sopra allo skateboard e cercavo di mantenere un equilibrio quindi poi ho mollato la presa e cercavo di stare in equilibrio e capire come fare per appunto mantenermi in equilibrio con sopra questa tavola che era comunque più piccola e era molto difficile pian piano pian piano pian piano sono riuscita a stare in equilibrio quindi ok bene un passo alla volta adesso cosa faccio provo magari restando attaccata perché mi sento più sicura a fare in piedi in piedi o a stare ferma e sollevare il piede da terra metterli entrambi sopra allo skateboard alla tavola e adesso ci riuscivo quindi per me era già tantissimo così poi allora il passo successivo era fare tutto ciò senza attaccarsi e quindi prova prova e prova dovrei avere anche qualche immagine di repertorio non so cosa ho filmato perché mi ero portata il tre piedi la videocamera questo e quell'altro mia sorella ha detto io mi vergogno col tre piedi allora l'ho fatta molto più scialla ho preso la videocamera l'ho messa in un punto random del parco ho acceso la registrazione e non ho idea di cosa ho filmato lo vedrò in fase di editing e quindi alla fine non so come ma ce l'ho fatta ce l'ho fatta con quello mini skateboard che non è proprio indicato per le persone soprattutto alte come me e vabbè è per bikini insomma per bambini in realtà perché anche mia sorella appunto che sa utilizzarla non riusciva tanto lì non riusciva proprio per niente a stare in equilibrio allora riuscivo sono uscita senza attaccarmi e restando sempre vicina perché mi davo sicurezza però non mi attaccavo più e questo per me è già tanto non ho ripreso perché appunto era un altro skateboard e non mi sembrava corretto fare una registrazione con un altro skateboard però quando ne avrò uno grande tempo al tempo creatura magari farò un'altra un altro story time dei miei nuovi successi con la tavola più grande allora cosa ho fatto mia sorella mi ha detto prova col mio che è grande se riesci con il mio hai imparato e indovina un po' sono riuscita quindi ha imparato sono riuscita e distante poi sono andata verso il centro della pista da sola così è stata una cosa so che per alcune persone può essere una stupidaggine ma non mi interessa per me è stato super soddisfacente ero iper orgogliosa di me e super contenta perché il giorno prima ero tipo sono un'incapace non so fare niente in realtà il giorno dopo io so andare non so non ho ancora imparato a fare le curve però mia sorella appunto non riesce con questo piccolo quindi abbiamo capito che per una volta non è una scusa ma davvero quello è piccolo e io non so cioè anche chi è capace non riesce ad andare bene con quello quindi ha detta di mia sorella che in confronto me è un'esperta quindi grandi cose e ho imparato con quello più difficile quindi adesso quando avrò uno grande sarò molto più schillata ecco diciamo così e quindi sono molto happy perché quando ne avrò non dico se perché non voglio più dire se voglio dire quando quando ne avrò uno grande andrò sullo skateboard voglio imparare anche a girare perché non è che posso andare sempre dritta a schiantarmi giustamente e non mi interessa imparare i trick mi interessa solo andarci normalmente e girare ecco e quindi è stata una bellissima esperienza ringrazio Anna perché se non fosse stato per lei non avrei mai provato perché anche se mia sorella ce l'ha non ho mai avuto l'input diciamo di chiederle però fai provare mi insegni invece così è stato tutto diverso e più facile da chiedere facciamo perché io non sono non chiedo molto le cose alle persone perché non voglio disturbarle invece questa volta non è stato un disturbo anzi anche mia sorella era molto contenta e ha detto che bello quando intanto lei ha scoperto questo parco dove poter andare perché ha avuto qualcuno con cui andarci per rompere il ghiaccio e adesso vuole andarci anche da sola e poi una cosa che possiamo anche fare insieme un'altra cosa in più che possiamo fare insieme è tra sorelle molto bello sono contenta e poi sono iper orgogliosa di me sono tutta allora hai visto che non sei così male se ti impegni se ti butti se silenzio Bruno ecco se silenzio Bruno ce la fai anche tu e quindi spero che questo periodo duri perché poi alcune volte mi butto giù e poi non so che cosa succede e però intanto mi godo il momento ti lascio creatura il link sia del sito ma anche un link se acquisti da quel link lì hai il 10% di sconto sugli skateboard se anche tu vuoi provare allora un consiglio che adesso ti posso dare per i principianti non comprate il mini skateboard lo so che è bello che ha le luci colorate cioè ha le ruote con le luci è bello sì però se non sei un bambino o un nano non ti conviene comprare quello ma ti conviene comprare quelli grandi completi normali se invece avete un bambino comprate gli uno skateboard e così imparerà già da piccolo mi ha stralato detto che se impari già da piccolo puoi anche fare i trick invece quando sei grande è più difficile però non è detto cioè se uno si impegna può fare tutto secondo me non esiste sta cosa però ho detto di mia sorella è così forse perché lei non riesce o ha paura allora dice la scusa eh no ma se sei grande perché dicevano la stessa cosa dei gatti che i gatti già grandi non imparano niente invece sembra già grandi ma imparano un sacco di cose che magari chi ce l'ha da quando è cucciolo mi ha insegnato cioè capito quindi secondo me è un po' una scusa questa però appunto non hanno solo gli skateboard ho visto che hanno anche una specie di monopattino perché così i bambini si possono ottenere con questa specie di manubrio è più facile e sono belli anche quelli però appunto sono per bambini e questi qua led sono bellissimi se io fossi una nana o un bambino una bambina ecco mi sarebbe piaciuto tantissimo poter usare quello con le luci sulle ruote come le scarpe quelle con le luci se invece sei un principiante o anche adulto ti conviene prendere quelli grandi completi avendo saputo se mi accorgevo prima che non era scam magari avrei guardato mi sarei informata e avrei preso direttamente quello grande però posso sempre rimediare quindi acquisterò quello grande sicuramente e perché ormai mi è rimasto il pallino che ho visto che posso farcela e voglio farcela e voglio imparare anche adesso voglio allenarmi un'altra cosa che mi è piaciuta durante le prove insomma finché imparavo mi è piaciuto tantissimo il fatto che finché si usa lo skateboard si fa un sacco di ginnastica tra virgolette involontariamente perché è tutto un lavoro di gambe e addominali però non è come gli esercizi che fai magari in palestra o a casa che sono un po' per me sono una struttura di scatole perché lì sei concentrato a fare altro ma nel mentre fai anche esercizio cioè capito sei concentrato a non cadere restare in equilibrio sulla tavola spingerti capire come girare eccetera eccetera e goderti anche l'emozione di fare questa cosa che non stai pensando che nel mentre stai tenendo gli ottominali in tensione le gambe e tutti i muscoli rigidi per mantenere l'equilibrio non cadere eccetera eccetera quindi è fantastico ho detto ho trovato il mio sport e ho trovato il modo per fare ginnastica senza rompermi le scatole con gli esercizi che a me non piacciono ho iniziato da farli comunque sì io sono magra molto magra da penso tu abbia capito dalle foto di instagram non lo so però non mi piaccio sono troppo magra più che altro non sono definita cioè non ho muscolo non ho ho dei due campi le magre che per me fanno schifo sembra jack skeleton un insetto steggo puoi dire perché magretta non è sinonimo di bellezza per esempio dal mio punto di vista e ho messo su qualche chilo ma mi è andato tutto sulla pancia come gli uomini e quindi mi sono rimaste ste gambine magre sta pancetta che mi fa schifo che è lo so che sicuramente impercettibile ma io me la vedo e non mi piace e quindi volevo farmi gli addominali e se mi si muscoliscono anche le gambe sono molto contenta quindi top ho trovato il mio sport yeah oh curitino ah non ho detto che insieme allo skateboard ti arriva anche un libretto un foglietto delle istruzioni dove ti dice come probabilmente cambiare le ruote non so perché in tedesco come anche ammorbidirle renderle più fluide non so come spiegarlo perché praticamente quando mi è arrivato alcune ruote erano molto dure e quindi con questo arnese qui le ho un po' mollate mollate in diletto veneto smollate in diletto non lo so comunque le ho rese più morbide più fluide non ho idea di che termine utilizzare sicuramente in fase di editing dirò questa è la parola giusta ma ormai sarà troppo tardi comunque penso che tu abbia capito no? scorrevoli sì forse scorrevoli te le puoi regolare tu con questo strumento e penso di non avere altro da dire quindi link per lo sconto non è affiliato quindi io non ci guadagno nulla però è stata talmente tanto una scoperta una soddisfazione che ho voluto portarti lo story time penso di aver messo anche qualche foto o qualche video durante la spiegazione e niente lo so che è brutto da dire se ce l'ho fatta io ce lo puoi fare anche tu ma è tutta questione alla fine di testa fine sì perché è anche un video motivazionale alla fine perché anche per me stessa mi fermo troppo con le paranoie dovremmo dire più spesso silenzio bruno e fare le cose però non sempre riusciamo e spero che anche tu creatura possa dire più spesso silenzio bruno per chi non avesse non capisce la citazione è nell'ultimo uno degli ultimi film della disney se non sbaglio Luca guardate quel film mi è piaciuto molto un film di animazione e non voglio spoilerare quindi guardatelo poi capirete la citazione per chi l'ha visto più spesso bisogna dire silenzio bruno e buttarsi per le cose funziona ormai io non ho detto silenzio bruno ma sono passata a livello successivo e ho iniziato a spararmi nella testa tutte le frasi dal fallo ce la puoi fare ma perché ti fai tutte queste paranoie non servono a niente eccetera eccetera e sono molto contenta di aver ascoltato la voce giusta che ho spinto io nella mia testa e non le altre voci che mi buttano giù ho anche altre persone nella vita reale che mi hanno detto adesso ti farei male succederà questo cioè uccelli del malagurio tie 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 subito no invece di incoraggiarti la gente ti butta giù perché magari invidioso vorrebbe farlo anche loro ma ti dicono cose brutte per farti cambiare idea non bisogna ascoltare quelle persone bisogna mandarle a quel paese spero che questo video ti abbia rilassata anche se ho parlato molto velocemente però puoi capire la mia emozione e perché ho parlato in questo modo mi piacerebbe fare altre story time se ti è piaciuto e se vuoi nuovi story time lasciami un like e commenta dicendo si story time li vogliamo così io vedo che c'è interesse e allora ti porto in altre mie esperienze avventure e altre cose personali perché questa comunque è un'esperienza personale anche qua mi sto lanciando nel raccontarmi perché comunque sto svelando delle mie debolesse e ti ho detto che ho l'ansia che mi vergogno che insomma di solito queste cose le esterno di più su instagram perché è proprio come un diario personale dove non nascondo nella tristezza nella felicità non nascondo nessuna emozione invece su youtube tendo più a mostrare cose belle perché voglio che sia un canale pulito che ci sia solo relax cose del genere però è giusto anche mostrare anche altri lati insomma perché ci sono e sono reali e li abbiamo tutti anche noi divinità ebbene sì però mi sto proprio innalzando nel livello delle divinità supreme perché una volta che avrò superato tutti questi problemi che ho non mi potrà fermare più nessuno e ciao ciao ecco a te dovete proprio adorarmi come una divinità suprema quindi detto ciò ti saluto e ti auguro buonanotte relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti